Buonasera a tutti, io sono Arduino Schenato e sono qui per conto DG e in questo webinar dove parlerò della Pimbar Strategy, ovvero la strategia più classica di quelle che utilizzo e che utilizzo da moltissimo tempo. Bene, allora, intanto vi ringrazio per essere così numerosi, abbiamo oltrepassato la soglia dei 100, anzi siamo anche abbastanza oltre la soglia dei 100, quindi benvenga, devo dire che questa strategia vi stuzzica, so che molti di voi la conoscono, sicuramente ci sarà qualcuno che insieme a me l'ha adottata per molto tempo, io ancora oggi ho una strategia che utilizzo e che utilizzo in svariati mercati, anzi direi in tutti i mercati liquidi, sapete che la mia operatività viene basata solitamente sui CFD, quali Forex, maggiori coppie di valute, quelle un po' che vedete anche qui sulla mia schermata, poi materie prime principali, le più tradate come il contratto dell'oro, il contratto dell'argento, il contratto del petrolio, il VTI, quello americano e i maggiori indici azionari mondiali, ovviamente i più importanti europei come il DAX, come il CAC, come l'Eurostox, ma anche l'italiano comunque è un indice che trado molto e poi si va ovviamente verso gli americani che sono dei benchmark e quindi è interessante sempre fare del trading anche su questi. Quindi questi sono ovviamente i mercati principali su cui far trading con questa strategia, ma non dovete comunque per forza limitarvi perché la PIN, la PIN bar strategia è sicuramente una strategia molto interessante anche sui mercati azionari, poi magari possiamo andare a vedere su qualche mercato, un esempio ieri mi sembrava su Mediobanca di aver trovato una PIN bar strategia interessante che si poteva tradare. Bene, detto questo quindi, cos'è una PIN bar? Cos'è questa strategia e come si utilizza? Allora, partiamo dal presupposto che la cosa principale che caratterizza questa strategia è quello che io definisco la falsa rottura, il falso movimento al rialzo o al ribasso di uno strumento finanziario. Mi fermo un attimo perché non so se mi sentite ancora, mi dicono che probabilmente in questo momento non mi sentite, penso che adesso mi sentiate, mi sentite, pronto? A questo punto inizia la trasmissione, tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Mi sentite? Penso di sì. Mi vedete? Sì. Scusate ma sapete quando si inizia? Ok, vedo anche tutte le vostre domande. molto bene, Claudio, siamo riusciti nel nostro intento. Quindi, bene, partiamo, continuiamo l'introduzione. Allora, vi vedo veramente numerosi, adesso vedo anche tutti i vostri nomi e vedo parecchi nomi che conosco e forse anche alcuni che conoscerò, mi parlo di vedere. Quindi, bene, molto bene. Sono contento di vedere vari nomi e nomi che conosco. Allora, detto questo, bene, abbiamo sorpassato anche i 110, siamo verso i 120. Bene, allora, detto questo, direi che la Pimbar, allora, la Pimbar è, stavo dicendo, una strategia che si va a basare sulla falsa rottura come cosa principale da tenere presente sui mercati. Allora, sapete voi che facciate trading da più o meno tempo, sicuramente avrete notato che spesso, soprattutto se fate un trading intraday, la vostra analisi tecnica a volte viene fallita perché un supporto o una resistenza viene viene spazzata via come niente, come neve al sole, viene sciolta come neve al sole. Dopodiché, una volta che questa resistenza, per esempio, viene spazzata via, il mercato recupera l'area di resistenza e torna a un mercato magari short o un mercato bullish in caso di supporto rotto in modo falso. Cosa voglio dire? Voglio dire che prendo un mercato a caso, l'euro-dollaro, un mercato che viene tradato molto spesso, vedete come, questo è un grafico giornaliero, ci possono essere dei movimenti, vedete tutto questo spazio di prezzo, questo space viene chiamato in price action, questo spazio dove i prezzi hanno una settimana, direi comunque alcune giornate di lateralità, il mercato cosa fa? Il mercato a un certo punto fa quello che vi ho appena detto con questa giornata, ovvero il mercato va a spingersi oltre i massimi precedenti, quindi qui, eccola qua, dove molto probabilmente moltissime persone hanno inserito vari ordini di stop loss, quindi dove molto probabilmente questo strumento ha degli ordini di acquisto, ovviamente chiamati stop loss perché molte persone magari sono entrate in vendita, insomma alcuni stop loss e poi il mercato, boom, recupera ovviamente il suo terreno e chiude all'interno della lateralità precedente. Allora, detto questo, la cosa interessante è riuscire a trovare nel mercato queste situazioni, queste situazioni io le vado a definire come nella strategia pin bar, cioè nella ricerca di queste pin bar, di queste situazioni di mercato che sono molto ricorrenti, sono molto semplici da identificare e soprattutto quello che ovviamente vogliamo di più sono molto profittevoli, quindi hanno tutte le peculiarità per cui può essere interessante l'ausilio di questa strategia nella propria quotidianità di trading. Ovviamente si cerca di lavorare su questa strategia attraverso time frame daily prima di tutto, mi raccomando, daily prima di tutto. È anche vero che diciamo questa strategia anche se con delle regole leggermente differenti, la porterò e la mostrerò live in diretta durante il tour che mi vedrà partecipato con IG in tutta Italia a fine ottobre, potete iscrivervi direttamente sia dal mio sito che dal sito di IG nelle varie tappe che partiranno da Roma il 27 ottobre, poi ogni giorno a scadenza proprio quotidiana, Roma, Firenze, Padova, Torino, quindi se siete nelle vicinanze ci possiamo incontrare, potete conoscere il broker, potete conoscere i vari ragazzi, i vari analisti, i ragazzi di IG con cui potete comunque discutere appunto della piattaforma e tutte quelle cose che vi possono interessare del broker e in più potete parlare sia con me che con Bruno, che siamo i due trader che appunto mostreranno la propria operatività e in quell'occasione, in queste date, mostrerò proprio le false rotture, le situazioni di trading intraday interessanti per fare trading e cercherò se ci sarà ovviamente l'occasione in quell'oretta, in quel frangente di pomeriggio che io parlerò e comunque sono pomeriggi totali dalle 3 alle 7 della sera, quindi comunque ci sarà probabilmente l'occasione per far vedere qualche trade di andare dentro al mercato attraverso queste strategie intraday, però per la pinbar strategy classica, proprio la classica strategia pinbar vi consiglio di andarla a utilizzare dai grafici ai 4 ore al daily, queste sono le due time frame che è dove la strategia funziona di più, quindi abbiamo detto 4 ore al daily, ovviamente se uno vuole avere, un trader vuole avere anche un'operatività di più ampio respiro si può switchare anche attraverso l'operatività sul grafico weekly, però io come trader lavoro soprattutto per questa strategia su grafici 4 ore al daily, non per niente ho scritto anche degli ebook, professional trader, il business del forex trading, tour strategy che parlano e inseriscono anche parte di questa strategia e che io utilizzo veramente da tantissimi anni ed è una delle strategie più profittevoli che io abbia mai utilizzato, quindi sicuramente oggi è un argomento molto interessante. Quindi, detto questo, dobbiamo appunto ricercare questo tipo di candela, perché poi alla fine è una candela. Allora, intanto dobbiamo capire che la strategia, e lo scrivo qui su un foglio, su un blocco note, può essere utilizzata in trend, contro trend, in lateralità. Vediamo subito la pin bar strategia utilizzata in momenti di tendenza. La pin bar strategia utilizzata in momenti di tendenza è, secondo il mio parere, una delle pin bar più profittevoli e anche meno stressanti da utilizzare come trading, perché tendenzialmente, anche se il timing di ingresso può essere non perfetto, abbiamo dalla nostra la tendenza e quindi il mare che ci porta con sé. E questo è sicuramente un'ottima modalità di trading in generale. E rispetto quindi alla modalità contro trend che utilizzo molto poco spesso, dal sottoscritto è quella più utilizzata. Come si fa ad andare a ricercare una pin bar strategia in tendenza? Io utilizzo una media mobile a 21 periodi esponenziale e nel momento in cui il mercato è sotto la media mobile cercherò delle pin bar short, nel momento in cui il mercato è sopra la media mobile cercherò delle pin bar long. Cosa sono queste pin bar long? Le pin bar long sono quelle giornate, perché qui si parla di grafici giornalieri in questo momento, che hanno un diciamo corpo, il corpo della candela molto piccolo rispetto al suo spike, alla sua escursione, al suo shadow, alla sua ombra. Quindi questa diventa una pin bar short, quindi da vendere. perfetto. Mentre al contrario diventerà una pin bar long, per esempio questa, è la stessa cosa, questa diventerà una pin bar long, potrebbe avere un po' di corpo, l'importante è che ci sia una chiara definizione del naso, diciamo della pin bar, dico il naso perché la parola pin deriva da pinocchio bar, candela pinocchio, proprio perché questo dovrebbe essere il naso di pinocchio, il naso che dice la bugia, perché vi ho detto prima che questa strategia è basata sulle false rotture, quindi le bugie di mercato, proprio perché questa diventa una bugia, cioè il mercato è andato al rialzo durante la fase intraday, per poi chiudere ai suoi minimi, o al contrario andare al ribasso durante la fase intraday e poi chiudere ai suoi massimi. Quindi abbiamo dalla nostra una strategia che soprattutto vista con time frame un po' più lunghi, per esempio il daily io credo sia uno dei più importanti e interessanti time frame sui quali fare i soldi, ok, con il trading proprio perché dà la sua tantissime caratteristiche interessanti e nella pin bar è ancora più interessante questa visione del daily perché su questa giornata noi abbiamo interessanti caratteristiche e ci dà una chiara idea di quello che è successo nel mercato quel giorno di trading. Quindi se noi abbiamo una candela di questo tipo vuol dire che il mercato ha per esempio aperto su questo livello, ha rialzato fino a dei massimi intraday per poi essere sparato sotto e chiudere i minimi. Questa significa che il mercato non ha avuto la forza di rimanere sopra dei livelli importanti o a dei livelli importanti per cui poi il mercato è stato riportato giù e quindi questo ci indica una chiara e interessante opportunità di trading short perché se i tori, chiamiamoli così, non sono riusciti a mantenersi forti fino alla fine della sessione di trading, significa che molto probabilmente almeno per la giornata successiva il mercato potrebbe spingersi al ribasso. Detto questo quindi andiamo a ricercare questa tipologia di candele ovviamente in trend abbiamo detto per il momento sul grafico di euro-dollaro dell'ultimo periodo, ce ne sono svariate di queste candele ma noi andremo a ricercare le più ovvie, non quelle ovviamente non ovvie, quelle che hanno dato il vero input. Allora se io vado e parto da quando il mercato abbiamo detto scende sotto la media mobile, la prima pin bar short che io trovo è quella che si è venuta a verificare il 13 agosto sull'euro-dollaro, quella che va a formare tranquillamente una candela che graficamente è proprio come io ve l'ho mostrata, cioè un corpo molto piccolo rispetto al naso e che nel suo naso, nel suo spike, nella sua shadow ha fatto quello che deve fare, ovvero aver fatto una falsa rottura dei massimi precedenti, più sono e meglio è, ovviamente in questo caso ha fatto un falso breakout del massimo del giorno prima e del massimo del giorno ancora prima, quindi ha fatto, ha detto una bugia a tutti i trader che erano entrati long sui breakout per poi rimangiarsi tutto e chiudere all'interno di questi due corpi, di questo range. Questo ovviamente è sicuramente molto interessante come segnale, ovvio che se il mercato avesse spinto al rialzo e se anche rotti massimi avesse chiuso sopra i loro corpi allora non sarebbe più stata definita da me una pin bar strategy, non l'avrei più tradata, a meno che non ci fosse stato veramente una forte, fortissima escursione al rialzo per poi ritornare quasi a quei livelli, allora la forza, forza così, molto imponente e poi una chiusura anche se leggermente sopra potrebbe comunque spingermi a cercare di fare lo stesso la strategia, però tendenzialmente sappiate che la cosa importante è che il mercato vada a offrirci una chiara ed evidente falso movimento per poi rientrare dove era prima, questo è importantissimo, questa è proprio la chiave. Quindi questa è una come setup pin bar strategy, andiamo avanti, vediamo, eccone qui un'altra, questa è un'altra pin bar strategy, vedete come il mercato, che poi ve l'ho mostrata prima ovviamente, è andato su, poi è ritornato giù, è rientrato all'interno e quindi questa può essere definita una vera pin bar strategy, poi andiamo giù e ne troviamo un'altra subito qui, molto interessante, il mercato qui non sfonda al massimo precedente, però qui si tratta di una cannella molto più bearish, molto più forte, ma rompe il massimo precedente, torna all'interno del suo range e fa una cosa abbastanza evidente, vedete com'è evidente e com'è chiara, quindi anche qui si può definire una pin bar. Come vengono tradate queste pin bar in trend? Allora, ci sono due modalità, io oggi ne parlerò di una e queste pin bar, io le avrei tradate tutte con ordini stop sell, quindi sempre stop order, alcuni pip sotto i minimi della giornata, ovvio che grazie a IG abbiamo la possibilità di lavorare con spread veramente contenuti su tutti i mercati principali, quindi esempio sull'euro dollaro abbiamo 0,8 un punto di spread di media, quindi stiamo parlando di non spread quasi, e quindi è molto interessante perché qui si può tranquillamente mettersi sotto di 2-3 pip sotto il minimo della candela e anche qui lo stop loss viene inserito 2-3 pip sopra il massimo della candela e ricercare un movimento ribassista, eccola qui, quindi sempre ordini pendenti, in questo caso avremmo avuto 3 giornate in cui il mercato non avrebbe, diciamo il broker non avrebbe eseguito il nostro ordine, al terzo giorno poi, ovviamente se si accumulano inside candle, di cui parleremo nei prossimi webinar delle candele inside, in questo caso, come dire, manterremo comunque l'ordine. Mi viene chiesto da Andrea che saluto e che mi dice che probabilmente ci vedremo a Padova e sono contento, io sono anche di Rovigo quindi siamo anche vicini e sono molto contento, così parliamo in dialetto veneto, Andrea e così a Padova ci capiamo tra di noi, no adesso sto scherzando. Allora Andrea, mi... bene Andrea, allora mi chiede Andrea, così per tutti, e se la candela pin bar si fosse chiusa in rialzo, cioè la chiusura maggiore dell'apertura, la prima mostrata è negativa, cioè mi chiede Andrea se questa candela si fosse chiusa verde, probabilmente, ti chiedo conferma Andrea, così tutti capiscono cosa vogliamo dire, intanto siete in 121 quindi abbiamo superato anche la resistenza di 120 e vi ringrazio. Qui Andrea ti chiedo se questa era verde la tua domanda? Allora penso di sì, se questa era verde si poteva fare comunque perché comunque rimaneva all'interno di questi corpi, allora sì, ok? Dei corpi dove ha fatto la rottura, l'importante è che rimanga all'interno del corpo dove ha fatto la rottura, questa è la mia regolina, quindi se il mercato sale, vedete che dopo ritorna all'interno della rottura di questo, no? Anche di questo, però qua non ha rotto. Qui in questo caso invece rompe, rirompe tutti e due, quindi rimane all'interno, addirittura va anche più sotto, quindi ancora meglio, ok? Se va sotto è ancora meglio, ovvio che se rimane sopra allora diventa un no da parte mia. Ok, perfetto. Lo stop loss ovviamente va messo sopra il massimo della pin bar, quindi in questo caso, faccio una cosa così capite esattamente cosa voglio dire, qui va messo lo stop loss e l'entrata viene sempre fatta su breakout, sempre mettete sempre a seconda del mercato dello spread che avete, 2 barra 3 pip, ok? Quindi mi raccomando, calcolate il prezzo in bid e in ASK, sulla piattaforma IG Trade lo potete fare tranquillamente e denaro lettera c'è scritto, quindi denaro ovviamente il vendi in bid e per gli acquisti l'ASK, quindi la lettera, come dato, così avete la possibilità di filtrare lo spread, ovvio ripeto che sull'euro dollaro avete 0,8 un punto di spread, sono spread ridicoli e quindi una volta che avete già il prezzo medio di pro real time potete tranquillamente andare 2-3 pip sotto il minimo e non avete problemi. Se avete mercati dove ci sono di spread un po' più importanti, a questo punto allora si può andare nella IG Trade, nella piattaforma dove inserite gli ordini di IG e da lì sui grafici di IG proprio avete il denaro lettera anche, quindi potete andare tranquillamente a ricercare il prezzo, ripeto, per la vendita in denaro, il minimo in denaro meno alcuni pip e per l'acquisto, il prezzo in acquisto è il prezzo detto in lettera, quindi in ASK diciamo e lì ovviamente gli aggiungete 2-3 pip e andate al rialzo. Questo è sicuramente interessante quindi quando voi andate alla sera, ovviamente se siete un grafico daily dovete andare a ricercare la FTV quando il mercato sta per chiudere o chiude, quindi alla sera io ogni sera ormai da circa 8 anni lo faccio questo. Mi vado a guardare la piattaforma di trading, le watch list che io guardo, quindi indici, forex e commodity, soprattutto anche comunque qualche titolo, vado a rivedermi le mie chiusure, se noto che c'è esempio un setup di questo tipo, calcolerò il mio rischio, ovviamente questo è anche molto bello come trading perché ti dà la possibilità di calcolare il tuo rischio, sulla piattaforma di IG avete la possibilità di calcolarvi esattamente il vostro rischio, mi inserendo l'ordine pendente sell stop, per esempio in questo caso sarebbe stato 1,33 e 37 circa e con lo stop sopra il massimo, così se volete per esempio rischiare 300 euro, investire 300 euro su questa operazione, entrerete con x lotti o mini lotti di euro dollaro, in modo che avete l'operazione creata, ovviamente in questo caso non andiamo a parlare di money management, altrimenti dovremmo stare qui altre 4 ore. Di base comunque inserite l'ordine pendente, mettete già l'ordine stop, gli ordini pendenti sinceramente io preferisco sempre inserirli o la sera dopo mezzanotte ma preferisco inserirli attorno alla mattina, la mattina dopo le 7, 7 e mezza del mattino, l'analisi l'ho fatta la sera, mi sono scritto magari o sull'iPad o su un blocco esattamente le operazioni che voglio fare il giorno dopo, facciamo finta che sia questa da fare sull'euro dollaro e basta, inserirò sul mio blocco, scrivere l'euro dollaro, vendere a 1,33 e 40, lo stop loss va inserito a 34 e 26, sono esempio 80, 70 pip di stop loss, questi 70 pips in euro valgono con 5 mini lotti 300 euro, bene, benissimo, entrerò con 5 mini lotti, mini contratti, mini CFD di euro dollaro, a 1,33 e 40 con stop a 1,34 eccetera, quindi dalla mattina alle 7 prima della doccia e della colazione inserisco il mio ordine, da questo punto in poi la prossima volta che lo guardo è anche attorno a mezzogiorno e mezzo 13, quindi quando già il mercato si è mosso, ok? non vado a essere troppo, diciamo, bisogna essere un po' cinici, bisogna cercare poi di lasciare che il mercato si muova a nostro favore e ci mostri la nostra attività di trading, io vi faccio vedere una cosa, non è una pin bar strategy, ma oggi sono entrato, mi sono entrati alcuni ordini, mi è entrato l'ordine sull'indice italiano, vedete sono short, sto guadagnando 173 punti in questo momento e sono ancora dentro, ma non sono qui assillato dall'operazione, ok? Questo è un conto reale su cui faccio trading, l'euro stocks uguale, sono tutte e due a stop a break even in questo momento, non ho più rischio nel mercato, ma non sono qui assillato dalla mia operatività, quindi resto dentro, la lascio dentro e lascio che il mercato si muovi a mio favore, devo essere comunque convinto e tranquillo dell'operazione, quando si è tranquilli, e questa è una cosa che esula anche un po' della pin bar, ma va in generale nelle strategie, quando utilizzo sicuramente una strategia che mi rende sicuro, ma anche una strategia di money management, quindi una gestione del portafoglio di rischio, assolutamente concorda alla mia emotività e al mio conto di trading, questa strategia, la pin bar, come tutte le strategie che utilizzano, mettono in primo, in focus principale, in primo luogo proprio la gestione del rischio, quindi con questa modalità voi non avrete mai problemi perché sarete sempre tranquilli nell'operare con una gestione dell'operazione, delle emotività eccetera, che è totalmente sotto controllo, perché voi sapete dove siete entrati, entrate solo perché avete un setup ben preciso, sapete che il posizionamento del vostro top loss è anche un posizionamento tattico, perché tendenzialmente se il mercato rompe questo livello e lo viola e poi torna indietro, se torna qui tendenzialmente cambia la tendenza, perché questo è un livello tattico, perché abbiamo detto che la pin bar va ad assorbire già dei possibili stop loss inseriti sui mercati e quindi quando noi ci inseriamo su questa modalità abbiamo una strategia che va a definirsi proprio direi perfetta, ottimale, perché ripeto viene incontro alla nostra emotività, visto che non dobbiamo stare davanti al monitor come dei pazzi ogni minuto, va incontro alla nostra gestione di portafoglio e gestione del rischio, quindi assolutamente ben calcolato prima, perché alla sera voi avete ben chiaro quello che è successo e calcolate esattamente il rischio, quindi non entrate su un'operazione a casaccio, non sapendo neanche quanto avete rischiato, magari siete entrati con un CFD standard euro dollaro e state rischiando 70 pips che sono 700 dollari e magari nel vostro conto non ve lo potete permettere, oppure avete rischiato troppo poco per il vostro conto, perché c'è anche quello da dire, può essere che siete entrati con un mini contratto e magari potevate permettervene 5, cosa che invece si può fare perché magari potreste guadagnare molto di più ovviamente, con un rischio sempre premeditato prima, quindi tutte cosine che questa strategia ovviamente va a migliorare, sapete che il trading è un'attività interessantissima, affascinante, bellissima, ma bisogna essere molto curati, avere cura dei dettagli e questa strategia in questo modo ha cura dei dettagli, si inseriscono solo ordini pendenti, le entrate vengono fatte solo con ordini pendenti stop, ordini stop, ordini buy stop e sell stop, quelli che ci sono un po' in tutte le piattaforme, anche la metatrader che IG ovviamente vi può rendere disponibile se vi piace la metatrader, quando inserito un ordine è ordine buy stop e sell stop, io preferisco pro real time, ma addirittura io quando inserisco l'ordine ho l'inscrizione anche da pro real time, lo inserisco direttamente dalla piattaforma, proprio la IG trade o la piattaforma dei prezzi, preferisco, la vedo subito e preferisco. Veniamo un attimo alle vostre domande adesso, perché ce ne sono talmente tante che non so se risponderò a tutte, però sicuramente cercherò di fare il possibile. dico, al massimo possiamo vedere di fare un altro appuntamento di webinar per vedere magari le pin bar strategy contro la tendenza, così andiamo a prendere magari oggi soprattutto quelle in tendenza, perché volevo essere ben chiaro e specifico, approfondito su queste, così che abbiate già da domani, da questa sera, la possibilità di guardare i mercati e di ricercare delle pin bar in trend. Allora, mi viene chiesto da domenico, che saluto anche lui, se di venerdì a mercati chiusi non lascio mai gli ordini, no, tendenzialmente si tolgono e non si vanno mai a inserire a borsa chiusa, la fortuna di IG è quella che vi dà la possibilità, ci dà la possibilità di tradare gli indici anche nel momento in cui sono chiusi, voi per esempio vedete l'indice italiano, ovviamente si allarga un pochino lo spread, però intanto abbiamo la possibilità io in questo momento potrei chiudere l'operazione, se fossi con qualcun altro in questo momento io non potrei chiudere l'operazione, quindi gli indici sicuramente interessante tradare perché come col Forex alla fine sono aperti 24 ore su 24, per quanto riguarda le borse, quindi andare sui titoli singoli, sempre l'ordine deve essere inserito dopo l'apertura della borsa, quindi se lavorate sulla borsa italiana si va a tradare, cioè a inserire l'ordine direttamente dopo le ore 9, quindi quando il mercato ha già aperto le contrattazioni e per esempio anche per l'oro che chiude dalle 23 e un quarto alle 24, gli ordini vanno inseriti o dopo le 24, io sinceramente vado sempre a fare la mia analisi la sera e poi la mattina dopo le 7, appena sveglio, la prima cosa che faccio, ripeto, prima di fare doccia, colazione eccetera, la prima cosa che faccio è quella di inserire l'ordine che ho già però premeditato prima su un foglio, cioè mi sono già scritto tutto, so già con che size entrare, cioè la taglia della posizione, cioè con quanti contratti entrare, so già a che prezzo entrare, cioè a che prezzo inserire l'ordine e a che prezzo uscire in caso di stop loss, perché ovviamente qua nessuno è il veggente che sa se domani questa pin bar avrà sempre un esito positivo, non l'ha sempre un esito positivo, sarebbe stupido pensare che questo avvenga, però ha una statistica che a nostro favore, soprattutto se lavorate in trend, come vedete in questo grafico di euro dollaro degli ultimi mesi, avrebbe potuto dare dei profitti e non poco, perché avremmo avuto dei piccoli stop loss e dei possibili grandi vantaggi a livello di beneficio economico. Quindi, detto questo, andiamo avanti con Gennaro, che saluto, che mi chiede se sul secondo esempio, quindi così vediamo anche il secondo esempio, che ci sono più pin bar, io ne vedo solo una, che è questa, entri sulla prima candela verde, allora anche qui ovviamente si entra solo sulla pin bar, quindi queste non sono pin bar, questa è una pin bar, dove si entra ovviamente, si entra anche qui, si va a prendere esempio, faccio un esempio molto classico, il minimo 1.29.22, quindi 1.29.19 potrebbe essere inserito il nostro ordine pendente sell stop, il massimo qui è definito a 1.29.95, quindi a 1.29.98 possiamo andarci a inserire il nostro, eccolo qua, 2.29.99, va benissimo, il nostro stop loss e poi ovviamente si cerca il movimento direzionale che ovviamente deve avere una certa consistenza gestire la posizione, qui ci sono sbagliate modalità, anche qui non mi vado ad entrare oggi perché non c'è il tempo necessario, ho varie modalità per la gestione dell'operazione sulla pin bar strategy io solitamente non mi do un trailing di profitto, cioè non vado a far trail sull'operazione ma mi definisco un rischio rendimento fisso sull'operazione, quindi se definisco che questa operazione mi deve pagare due volte, mi deve pagare due volte, quindi se io vado a prendermi le due volte, perfetto, vado a definirmi in questo modo, ecco, vado a cercare di prendere profitto su questo livello, perché questo livello è, se questo è un rischio di 100, questo qua mi pagherà 100 e qui mi chiudo, tutto qui, questa strategia io a livello di gestione dell'operazione la vado a tradare in questa modalità, quindi anche qui stessa cosa, e anche qui stessa cosa, vado a darmi un rischio rendimento di 1 a 2 solitamente, non di più, quindi ho detto anche di più, quindi poi Cinzia che saluto, mi dice, la pin bar che ha un range completamente contenuto nelle precedenti barre, va considerata valida per l'ingresso, giusto? È sufficiente che rompa il minimo o il massimo della barra precedente anch'essa inside? Allora, aspetta che cerco di capire, quindi la pin bar che ha un range completamente contenuto nelle precedenti barre, ah ok, è un inside, non è giusta, perché è una candela inside, non è una pin, la pin, e io sono stato, non è che voglio allogiarmi di, però sono stato la prima persona, il primo trader che in Italia nel 2009 l'ha fatta divulgare al pubblico attraverso un ebook, attraverso degli eventi, attraverso dei convegni, e questa pin bar non si conosceva, e tante volte si fa confusione, poi dopo in giro sul web ovviamente c'è di tutto, ma la pin bar, il pinocchio bar è una candela che utilizzo, ripeto, veramente la utilizzo da anni, da svariati anni, che ha ovviamente la falsa rottura, ecco perché è pinocchio, una candela molto interessante, ripeto, può essere utilizzata, se vista nelle giusti modi, anche sui grafici a 4 ore, ovvio che sul grafico daily ti dà proprio una chiara visione, perché è l'insamble del giorno, del totale, della giornata, quindi dentro ci sono tutte le news, ci sono le speculazioni di breve termine, ci sono anche quelle di lungo termine, c'è tutto dentro lì, quindi sicuramente sul daily ha un certo peso. Penso di aver risposto anche a Cesare che saluto, che mi chiedeva dove mettere il target, quindi avete capito come questa strategia da me viene utilizzata. Andrea mi chiede se anche una doppia candela di colore diverso sovrappone, no, questa non è la strategia pin bar, quindi lascerai perdere. Poi Andrea mi dice se tengo in considerazione le pin in corrispondenza di resistenze e supporti statici o dinamici per entrare, oppure ti basi solo sul prezzo. Ovviamente se si va a lavorare in trend, tendenzialmente il mercato fa dei swing, quindi o swinga o lateralizza e poi esce dalla lateralità per poi rientrare, quindi in questo caso abbiamo visto come bene o male il mercato ha cercato di prendere alcune aree di resistenza e di supporto precedenti e poi è ritornato. Tendenzialmente il mercato si comporta un po' così, quindi direi di sì, anche se ovviamente quello che dici tu è più a livello di contro trend o in lateralità, che ripeto potrebbe essere l'argomento del prossimo webinar, del prossimo mese, dove concludiamo anche questa parte delle pin bar, perché sulle pin bar strategie ci sono veramente tante cose da dire e oggi volevo proprio soprattutto vedere le pin bar strategie in trend. Per quanto riguarda poi Claudio, che saluto, mi dice se la candela Uderna se rimane così fino a metà, si può considerare un po' una pin bar grazie? No, assolutamente, intanto questa è una pin bar contro trend, perché questa sarebbe una pin bar long e noi abbiamo detto che se il mercato è sotto la nostra media mobile a 21 periodi, exponential, quindi la media mobile esponenziale, quella che sul ProRealTime la potete andare a vedere in questo modo, EMA, l'EMA 21, exponential, esponenziale. In questo caso, uno sarebbe una pin bar long, quindi non la trado, due non avrebbe neanche la rottura del minimo precedente, quindi assolutamente intradabile. Poi qui ho veramente una serie di domande infinita, però proviamo a continuare. Allora, qua ce n'è proprio tantissime, allora io comunque faccio così, perché siccome tra un po' comunque chiudiamo, tanto per non andare a non sbagliare, io vi metto qui, scusate, la mia mail anche, che al massimo ci risentiamo di là, non perché voglio togliere, ma almeno continuavo un attimo il discorso e finivo, questo è il sito, l'altro sito è questo, quindi da lì potete trovare varie informazioni e comunque per le domande, al massimo, siccome non sto cercando di rispondere a tutti, ma non so se riuscirò a farlo con tutti, mi iscrivete qui e vi rispondo in maniera, spero, più cerere possibile, nel giro di 24-48 ore. Quindi cerco comunque di andare a prendere le domande più, che potrebbero essere ovviamente in generale interessanti per tutti, quindi sento, vediamo, allora mi chiede Flavio, questo è interessante, se il giorno dopo, ovviamente dopo una pin bar, c'è una candela inside con il minimo più alto, sposti il self stop più in alto, allora una candela inside non può avere il minimo più alto, quindi ti tolgo subito il dubbio, una candela inside è questa, cioè devono essere tutte candele che sono all'interno della candela madre, si dice, madre candle, anche qui faremo un webinar dedicato, ne ho già fatto uno dove parlavo di lateralità, di come lavorare sulla lateralità e quindi abbiamo parlato anche di inside, ma ne vorrei fare proprio uno specifico sulle inside, comunque così velocemente le inside ovviamente devono avere il range all'interno, quindi questo non diventa un problema. Andrea mi chiede se dopo quanti giorni la tolgo se non entra l'ordine, tendenzialmente dopo 3 viene tolta, quindi in questo caso praticamente eravamo all'ultimo giorno poi entrata, quindi se no si continuava a fare, molto probabilmente si toglieva l'ordine, se un altro giorno al quarto tendenzialmente avrei tolto l'ordine, tendenzialmente dico, perché il mercato poi magari da qui andava iniziava ad andare sopra la media mobile, quindi già non era più un qualcosa per media affrontabile, perché comunque teniamo come termometro proprio questa linea blu che diventa la media dei prezzi degli ultimi 21 giorni, e quindi questa è una cosa interessante. Ho visto che ci sono alcune domande che parlano appunto dei target e di come viene gestita, e quindi avete visto come questa strategia io la gestisco. Perfetto, Vito mi chiede il perché dico di inserire gli ordini il mattino, perché ho notato che si viene a creare una sorta di falsa rottura asiatica, la chiamo io durante la notte, ci sono alcune coppie di valute che io trado anche la sera, cioè la sera metto gli ordini, solitamente sono le valute con coppie asiatiche, mentre le altre tutte quante, anche l'euro dollaro, e che non è una coppia asiatica, tutte quante ormai da un po' di tempo inserisco sempre gli ordini il mattino, non più la sera, così non rischiamo di avere false rotture intraday, notturne diciamo, che possono essere, così, dare un po' fastidio, la mattina ci si sveglia, preferisco insomma essere più pulito in questo caso. qua, avevo svariate domande su questo, e quindi, ok, sicuramente si potrà vedere la registrazione del webinar, che sto già registrando io, tra pochissimo sul sito di G sempre, avete visto che c'è uno spazio dedicato sia a me che a Bruno, dove facciamo ovviamente, Bruno c'era da tanti anni, su tutte le sue strategie che utilizza, da un po' di tempo c'è anche la mia sessione, è dedicata appunto a, la mia sezione scusate, è dedicata a tutte le varie cose che reputo importanti per i trader, e che io ho imparato spesso anche sulla mia pelle, e in più ci sarà anche una sezione dedicata a tutti questi webinar, questo mi sembra sia il quarto, se non sbaglio, quindi sempre di circa un'oretta, e questo è molto interessante perché ho sempre cercato di portare degli esempi reali e pratici di operatività, attraverso tra l'altro questo conto reale, quindi proprio di far vedere quella che è l'operatività reale, ok? Quindi si, verrà registrato e verrà inserito nel sito di IG Ok Perfetto, direi che penso di stare rispondendo a tutti, quindi per le coppie asiatiche la sera dopo mezzanotte circa, l'ordine di inserimento ordine, per tutte le altre il mattino, queste sono delle regole del mio piano operativo, che sto condividendo con voi Bene Ecco, mi viene chiesto da Andrea, che saluto, se tengo conto di eventuali notizie nella giornata di inserimento di un ordine Assolutamente zero, se lavoro ovviamente sul daily, la mia operatività è praticamente tutta sul daily e quindi assolutamente devo dire che non tengo conto di questo Sugli indici funziona molto bene, guardate qua il mio indice italiano, sta a 244 punti, benissimo Quindi ottimo Qui vedete che una bella pinna, poteva essere questa sull'indice, vedete? Questa purtroppo, ecco una cosa che vi dico, nel momento in cui il mercato vi paga uno a uno di rischio rendimento Vi spostate a breakeven più qualche punto, ecco questa è una cosa che non ho detto Ed è molto interessante, così se il mercato poi vi torna indietro senza pagarvi l'uno a due Voi ovviamente non perdete nulla e andate a breakeven con qualche punto Una cosa interessante è questa, questa qui potrebbe essere definita una pinna Vedete che il mercato torna sotto la media mobile, dopo essere stato sotto per qualche tempo In questo caso tecnicamente è anche una bella flag questa qua Di continuazione di tendenza, quindi diventa anche un bel segnale tecnico Comunque al di là del segnale tecnico, questa è una bella pinna Vedete che il mercato va a violare il massimo precedente, ritorna dentro il suo range Si entrava short sotto il minimo Guardate qua, hanno tirato lo sciacquone, come dico io, quel giorno E quindi diventa molto interessante Perché si possono fare dei bei guadagni Ma gli indici piacciono molto L'indice italiano secondo me sulle pin bar funziona molto bene E quindi può essere interessante andarlo a tradare Ma anche per esempio, io vi ho detto sono dentro anche l'Eurostox E anche sull'Eurostox, ecco questa qui è una bella pinna Guardate qua, bel pin bar strategy, bellissima In trend, in questo caso si va long sopra il massimo E poi si va a cercare l'1 a 2 almeno Oh, vedete voi, potete essere che voi potete dare l'1 a 1 1 a 1 e mezza, ecco non andate mai sotto l'1 a 1 di risk reward Questa è sicuramente una cosa da tenere in considerazione Un'altra è qua Anche questa diventa una pin bar strategy La vedete? Molto molto interessante Si rompe il massimo, ovviamente andate sempre sul breakout E ricercate almeno l'1 a 2 O quello che a voi vi fa essere più in sintonia con il mercato Ok? Bene Detto questo io ho quasi finito Rispondo alle ultime poche domande E poi vi saluto Vi comunico che il webinar è registrato Quindi verrà postato nella sezione dedicata ai miei webinar E per tutte le domande che non sono riuscito a rispondere O che volete farmi Potete tranquillamente scrivere a questo indirizzo di posta elettronica Questi sono i miei due siti italiani E quindi sicuramente ci sono Allora, qua mi si chiede tante cose Risponderei a Vabbè, Silvia che saluto mi chiede Se farò un webinar sul money management Magari lo vedremo Anche questo Sicuramente, come dici tu Tra grossissime virgolette Il segreto del trading Perché di segreto realmente non c'è niente Però è sicuramente molto molto fondamentale Direi Avere un buon money management In tutte le strategie Insomma Un trader può avere la strategia Migliore del mondo Come profit trades contro lost trades O come rischio rendimento Ma se poi non usa un buon money management Con qualche trade si può bruciare tutto il conto E quindi basta qualche stop Che è normale il drawdown nelle strategie di trading Si può avere Detto questo Il 27 saremo a Napoli Sì E basta Quindi direi che se c'è altre cose da chiedere Ho visto che ci sono altre domande Però diventavano un po' Un po' profondite ovviamente Ma giusto che sia così Direi di andare a sentirci Direttamente via mail Ci sarebbero tantissimi altri esempi da fare In questo caso Assolutamente Cercherò di parlarvi Delle pin Sempre Della pinba strategy Contro trend di lateralità E nel prossimo webinar Che faremo Sempre con IG Vi aspetto sempre molto numerosi Ci sono stati tantissimi Vi auguro un buon trading simple a tutti E vi aspetto anche nel mio sito Se volete E nel tour di IG Ovviamente che faremo A fine ottobre Vi aspetto numerosissimi Vi ringrazio E vi saluto Ciao a tutti Artuino Schenato Yearforex E grazie IG Per l'opportunità